e bello a tutti ragazzi oggi siamo su non so brawl perché ho una sfida oggi noi maxeremo un account usando solamente le brawl box vorrei fare una mini serie su questa cosa ok e dopo vorrei fare la stessa cosa con gli startup quindi mi chiamo box opening vabbè inizia la nostra giornata non userò i crediti ok i crediti non li userò userò soltanto le casse che sono qui quindi andiamo di casso mega qualche saltellino c'è un saltellino 3 brawler diciamo a 300 punti leggeva per sciogli fosse un po' esagerato vabbè carlo ma leggendario si era buono però allora attenzione epico e di si gemma altro brawler bombardino ok ah comunque intendo per maxare non trovare tutti i brawler è proprio prendere gadget star power tutte queste cose qui vabbè i gear me li compro ovviamente 8 skip altri 3 brawler vabbè un raro un altro raro qualcosa di un po' più sostanzioso è epico già va meglio inizio a sbloccare un nuovo brawler raro ok vado di mega cassa raga 9 5 skip portano a sfida un 9 skip che il primo vabbè questo è episodio che trovano tutti rari super rari e cose così saltellino 5 skip ma voglio aprire una mega cassa finché non trovo un brawler No, rega, veramente, devo trovare un brawler 8 skip Un brawler Stecca Pocho E bull Ho finiti i rari, no, non ho finiti i rari, me ne mancano due Tutti ci schifo, in teoria dovrei trovare dei brawler, se non più, due brawler Vabbè, nita, voglio venire i rari Ok Ok, ok, abbiamo trovato tutti i rari Quindi da oggi, da ora sono super rari in su Sto sbloccando spike Ma tanto lo devo trovare qui Vai 10 skip, in teoria non dovrei trovare il brawler Non fatti Allora vado di metabox 5 skip, raga Ma vado di cassettina piccola, eh No, rega Ho preso il sardo e poi sbaglio Non devo ritrovare il brawler Per mia fortuna Spero Non un mitico, né un leggendario Bravo Bravo Grazie Volevo prendere la cassettina Ora trovo Sandy No Dai, cassa il brawler finché non trovo il brawler Comunque raga, dai, un like in iscrizione Chi è che non porti il box opening al giorno d'oggi Hanno raga, dai, un like in iscrizione Hanno rimasto le casse e nessuno fa più niente Spero non era Axor che ha fatto così star drop Bravo Edgar 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 Va bene Allora Diebici non stiamo messi proprio bene Va bene Aspettate Che cazzo o no Oh Unde si schippa Chissà chi trovo Eeeh Leggendario Adoro Vabbè lo voglio non sono Ma qua le monete Non condizzo Eeeh Ho giusto il brawler Diamo Draco Ah vero C'è il brawler in antiprima Charlie Metico Allora raga Muove lo dico Vado un po' con Draco Perché Ora ce lo andiamo a provare Draco Ce lo andiamo a provare un pochettino Prima di Ehm A bloccare gli altri brawler Va Un attimo a provarlo Draco Ovviamente c'era il livello Ah Però più la vina cassa ci vuole mezz'ora Più di pocio Vabbè c'era il livello 3 Ma in teoria la super è OP Sì però pure che l'ha a sto gioco Fastiglio che dà Dai rega l'ultima partita Con Draco Sperando di non morire Per il lag Dai Così mi gada neanche un po' di trofei su sto account Ma un po' io Devo provare la super Vabbè rega lo vado a giocare nel campo di prova Perché qui non si può più giocare Però mi piace sto brawler Probabilmente me lo sblocco Appena esce me lo sblocco Sper già caricato Ma sicuramente perché è troppo di prova Super Ah è affinché la migliore Qua mica io sto trago qua Però mi sa che più carico il colpo più bello fa Ah no dopo un po' sparisce Allora io lo faccio caricare Noi dai però sopra quelli Però rigaio OP Ok ok abbiamo provato Draco oggi Io abbiamo provato Draco Cassettina Ah no è troppo bello Troppo bello Cassa Con il naso Mi sa che il naso ha portato un bel po' di fortuna Altro naso Dai no Un'altra volta con il naso E arriva lui Niente male Potere sia Lido a Draco Quasi a me la vedo Dopo me lo potessi poco Mangiare 0 brule Ma qui quando stiamo 4 skip Ci da più brule di quando noi trovi 10 C'è skip Coletto GG Però sarebbe strano vedere un accanto maxato con 0 trofei C'è Sarebbe veramente ma veramente strano Ma strano proprio a punti estremi Dove Messa cassa Niente Ma è arrivato quel punto Dove gioco in cui non si trova niente Uuuuh Mi sa 12 13 13 13 Vabbè super Ma io non li voglio superare Ok Mitico Si ragiona E' epico Poi se voglio un po' tutti i leggendari Ma la riga Ce ne vuole Sette skip De brawler Grip E' gas Che tra poco finisco i super errori Meglio così Così che trovo da epici Un altro brawler Maggi brawler proprio stanno uscendo Vabbè che qui mi sa che è più facile trovarli Non lo so Vado di cassa enorme ragazzi Oggi non ne ho proprio aperta una Infatti fa una schifo Un altro brawler Un altro brawler Andiamo a lasciarli vai Andiamo a lasciarli vai Ehm Se fosse che la schifo è un po' esagerata Ma Mi sa che ancora non bastano per max armola quindi Ecco Ovviamente appena ci rifacciamo tutti i livelli di 11 Poi Si dovremmo prendere gadget e self power Poi la so problemi Con tutti i leggendari 12 skip Abbiamo trovato bo E grammo 10 epici su 25 5 skip Niente 5 skip Niente 12 skip Attenzione Mandy Che ho sbloccato Il giorno in cui Ho registrato quel video E Surge 3 su 11 Cioè siamo già 3 Nel primo episodio Non vedrò di giocare La voglia di star La quale Prank Altro epico E lui Mitico Stavo per dire Cromatico Io ancora là sono rimasto Vabbè Sì Salta No per cazzo No per cazzo Dai è Che bonus Vabbè 10 moneta Quante monete Quante monete Quante monete Quante monete Gemma Il minore Il minore cilistro Il minore cilistro Vabbè che poi ogni volta che rientro nel gioco dico E ricarica Cioè Letteramente Niente 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 Nada 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 Vabbè Fino che è dubbio Devo comprare Il minore Per cazzo Ma le per cazzo Si può trovare Nel box Boh Quasi è tutto Da vedere Alt Bruller Bruller Angelo Niente male 5 skip No Non sono niente Mi so Vabbè Ok Niente Vabbè Ho trovato a cazzo Volendo Ultima Cazzo Brulla E poi vediamo Spoi ci vediamo Nel prossimo episodio Ok No Vabbè Criamo Meg Dai E ci vediamo In un prossimo video E ciao